Perché è importante un'iniziativa come quella del .NET Campus, soprattutto per i giovani? Direi che è fondamentale perché permette alle aziende di incontrare i probabili candidati, a studenti e alle orandi di poter conoscere come si vive e come si lavora nelle aziende. Quindi è un ottimo punto di incontro tra azienda e candidati. Che cosa fa qui in questa edizione 2012 Orange.NET? Allora, la nostra community Orange.NET è partita da Catanio, perché noi siamo tutti catanesi, per dare un contributo a questo evento così importante, perché anche noi riteniamo che questi momenti siano momenti di incontro e confronto con le altre community e con le aziende.